Un saluto da Fabio Garesse e Beppe Bergomi che sono qui per raccontarvi cosa succederà oggi in campo. Coppa dei campioni, l'ultima nel 2010 che ha visto triunfare l'Inter nel famoso anno del triplete. L'incontro di oggi è affidato ad Alessandro Vittorio. Tutto pronto l'arco. Il termine in rete, questo è veramente Iella. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo e primo tempo si chiude sul 2-0. Scorbini, aranciata già in lungo la violenza. I giocatori hanno avuto la vittoria sempre più vicina, non bisogna però demordere, ecco perché. Una doppietta che pesa come un macigno, prestazione maiuscola. La difesa si è lasciata sorprendere. La partita finisce così 3-0.